Embalo o Falco? Vedremo, vedremo, vedremo quello che succederà. Sono due giocatori che interessano tutti e due. Lo stato della trattativa per Embalo? La situazione non è cambiata? No, stiamo prendendo tempo e vedremo quello che succederà. Sicuramente noi ci guardiamo anche intorno. Cioè siete disposti ad aspettare fino a quando? Ma fino a che ci sarà il tempo. Noi non abbiamo un tempo preciso. Il mercato finisce il 31 gennaio. Noi volevamo fare questa operazione il prima possibile per dare opportunità al ragazzo di inserirsi prima nella squadra. Però poi siccome le cose non dipendono solo da noi ma anche dagli altri per il momento va così. Quindi la prima scelta rimane Embalo. Seconda battuta Falco? No, erano due giocatori che erano sullo stesso piano come sembrava che Falco avesse anche altre richieste. Embalo era una situazione che avevamo portato avanti dall'inizio. Diciamo che sono due giocatori con le caratteristiche simili quindi vedremo chi la spunterà. Quanto riguarda le cessioni, Del Sole tornerà probabilmente alla Juventus e poi Cocco andrà alla Salernitana o comunque andrà via da Pescara? Questo non lo so, al momento sono dei giocatori del Pescara e devono pensare alla partita di sabato finché saranno qui a Pescara. Poi se Del Sole c'è questa possibilità ma al momento non è ancora concreto. Fornasier? Fornasier non c'è nulla. Se dovesse andare via Cocco arriverà un altro attaccante? Centrale, una punta? No, c'è il cappelluzzo quindi assolutamente no. Numericamente dovevamo smaltire qualche giocatore che era in più e siccome sono tre il mister ne vuole due e se andrà via uno l'altro rimane. Oggi abbiamo visto Mariani del Lugano in campo nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Pescara c'è ancora oppure no? O c'è mai stato questo interesse per Mariani? È un giocatore che piace al mister però noi in questo momento siamo sei a centro campo e penso che siamo al completo. Pettinari finora ha fatto 12 gol è normale che ci sia attenzione su di lui però il ragazzo vuole rimanere a Pescara. Cosa vi ha detto Zeman per quanto riguarda le operazioni che avete fatto fino ad oggi soprattutto per le cessioni visto che lui aveva chiesto di sfoltire questo organico i giocatori che sono andati via ovviamente sono andati via con il placet del tecnico. Contento.